Sarà ancora lunga la corsa playoff per il Ravenna di Luciano Foschi. A condannare il Rimini nel derby ci ha pensato Salvatore Sposito, giunto nel mercato di riparazione a gennaio. Una gara sentita da entrambe le tifoserie ed il gol vale quindi doppio. Per noi, per i tifosi questo derby vale tutto. È da dopo la partita di settimana scorsa che ci chiedono tutti i giorni, abbiamo avuto i tifosi al campo a chiederci la vittoria. Penso che l'abbiamo accontentato nel modo giusto perché non siamo venuti qua a rubare niente, siamo venuti qua a fare la prestazione prima di portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. Sia a fare una grande prestazione che a portare via il risultato. Tale prodezza non è una novità per il talentuoso Esposito che ha giocato per tutta la partita con una tripla frattura al quarto dito del piede destro. Di solito calcio sempre sopra la barriera, però se mi accorgo che è un portiere che fa prima il passo calcio il secondo palco. Non voglio essere presuntuoso su questa, però se ci sono già altre punizioni praticamente ho fatto i stessi gol. L'azzurrino ambizioso come tutti i giallorossi e guarda ad obiettivi importanti come il raggiungimento dei playoff. Diciamo che l'obiettivo era la salvezza e questo derby ti mette in crisi, ti mette in crisi positiva nel senso che si può fare molto di più in una semplice salvezza.